A giugno il traffico veicolare potrà tornare a circolare sulla statale 18 ad Acquafredda di Maratea. Al termine dell'ennesima riunione tecnica presso la sede della regione Basilicata, l'ANAS ha accolto la richiesta del territorio sostenuta con forza sul tavolo di discussione dal sindaco Daniele Stoppelli e si è impegnata a modificare il cronoprogramma prevedendo la ripresa della circolazione nel mese di giugno che è quello che l'amministrazione e i cittadini chiedono per evitare disagio alla vita quotidiana dei residenti, ma anche al turismo. Secondo l'accordo raggiunto, fino alla fine di maggio la carreggiata continuerà a rimanere interdetta integralmente. Dal 1 al 30 giugno si potrà circolare a senso unico alternato. Resta confermata l'apertura totale della carreggiata nei mesi di luglio e agosto. Purtroppo per il mese di maggio non siamo riusciti a intervenire anche perché la tipologia di lavori di scavo, degli imbocchi di galleria non può essere interrotta, altrimenti pregiudicheremmo l'esito dei lavori e quindi sarebbe una richiesta che comporterebbe gravi danni economici. Noi abbiamo fatto una richiesta coerente con le nostre esigenze, ma che non si scontra nemmeno con le esigenze dell'attività lavorativa. Come richiesto dall'amministrazione comunale saranno collocati lungo la nazionale pannelli a messaggio variabile in modo da fornire in tempo reale tutte le informazioni di viabilità relative ai lavori. L'ANAS ha già individuato i punti di installazione.